seconda corsa premio pizzocchi miglio per i tre anni interpretati dai gentlemen sono ben 13 al via la prima fila per Sri Lanka, Shelly Breed, Safari Mail, Satirello Pink, Savio Pan, Simply Road e She's Romy Lions seconda fila per Sundance B, Show di Casei, Spirit Wild, Solvalla Race, Sabina Mail e Survivor e K quando mancano ormai 200 metri allo stacco della macchina incertezza per Safari Mail e Satirello Pink dall'esterno She's Romy Lions cerca di emergere, vi riesce, nei confronti di Shelly Breed poi terza posizione per Sri Lanka, dietro la quale si sta accodando Simply Road a precedere Savio Pan l'errore per Shelly Breed lascia She's Romy Lions libera di comandare nei confronti di Sri Lanka poi errore anche per Simply Road e per Savio Pan dopo una lunga serie di rotture, dopo mezzo giro comanda liberamente She's Romy Lions su Sri Lanka Sundance B è riuscita a evitare gran parte della bagarre però adesso deve ricucire con i primi due della terza posizione la quarta invece è per Survivor e K guida She's Romy Lions su Sri Lanka si avvicina Sundance B poi Survivor e K in quarta posizione a precedere Safari Mail più indietro tutti gli altri siamo ora a 650 metri dalla conclusione con Sundance B che si affaccia dalla terza posizione all'esterno di Sri Lanka con She's Romy Lions che comanda ancora nettamente dopo un primo giro da 1.16.8 Sundance B allunga all'esterno sopravanza Sri Lanka va in caccia di She's Romy Lions più indietro gli altri capeggiati da Survivor e K con She's Romy Lions che ora è messa sotto pressione da Sundance B quando mancano 300 metri alla conclusione Sri Lanka è a contatto lungo la corda ci apprezziamo all'ingresso e il retta derivo con She's Romy Lions alla corda e Sundance B all'esterno poi Sri Lanka con Sundance B che intensifica l'attacco a She's Romy Lions che prova a difendersi ma all'esterno insiste Sundance B le due sono appaiate quando mancano 100 metri al traguardo She's Romy Lions alla corda Sundance B all'esterno che insiste e tende a passare con Sundance B che di forza sta regolando She's Romy Lions e va a onorare il pronostico mentre per il terzo ancora nettamente Sri Lanka il gruppo poi capeggiato da Survivor e K 8-7-1 l'arrivo ufficioso della seconda di Capanelle 2-1-6 sul mio cronometro 1-16 secco per Sundance B ancora una vittoria per la figlia di Equinox B con Simeone Insalchi al posto d'onore She's Romy Lions che si era portata al comando dal via rivediamo alla fine la vittoria netta per una lunghezza abbondante di Sundance B numero 8 davanti a She's Romy Lions numero 7 e Sri Lanka numero 1 questo arrivo naturalmente ufficioso per quanto riguarda la seconda di Capanelle hoce di l'anglucen